Ciao a tutti, sono Fabrizio Valenza, scrittore e filosofo. Questo è il mio canale Narrazioni e Vita, benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei fare un book haul un po' particolare, perché in realtà non è soltanto un book haul, sarebbe il secondo di dicembre, ma vorrei dedicarmi in modo particolare ad una serie di strumenti che ho acquistato per poter scrivere alcune delle cose che ho in progetto di fare. Innanzitutto vi chiedo scusa per questa luce orribile, ho un faro puntato praticamente in faccia e mi disegna un po' una maschera alla Paperinic. Insomma, pazienza. Allora, i progetti che ho intenzione di elaborare prossimamente, diciamo nel prossimo anno, sono sostanzialmente due e sono entrambi legati al fantasy. Non ci sarà soltanto questo, ma ci sarà anche dell'horror, però le due novità che riguardano la mia scrittura hanno proprio a che fare con il fantasy. Allora, da un lato scriverò finalmente il settimo volume di Storie di Gashua O'Hallers, dando così conclusione a quella saga che è incominciata vent'anni fa, praticamente vent'anni fa. D'altro canto però ho intenzione anche di scrivere un libro gioco ambientato nel mondo di Gashua O'Hallers, anche se sarà localizzato in un periodo temporale molto precedente rispetto agli avvenimenti di Storie di Gashua O'Hallers, e cioè all'incirca 5.000 anni prima. Durante un periodo conosciuto come il periodo di Innesan, il potente, cioè un uomo, un eroe dei tempi antichi, che riuscì a portare il suo contrasto ai maghi del camminamento oscuro che si stavano diffondendo nella parte orientale dell'impero crovestiano. Ma allora veniamo a noi. Innanzitutto vi mostro i libri e poi vi spiegherò anche i libri, e non soltanto i libri, gli oggetti che ho comprato, e poi vi spiegherò anche più o meno il modo in cui li utilizzerò, riservandomi poi di fare un ulteriore video in cui vi spiegherò in maniera precisa ed approfondita proprio la metodologia che applicherò per scrivere attraverso questi strumenti. Allora, innanzitutto non possono mancare i due importanti volumi di Mauro Longo dedicati ai giochi di ruolo e ai librogame. Quindi innanzitutto c'è questo, giochi di ruolo, come inventare, realizzare e proporre giochi di interpretazione, di avventure e di narrazione, edito da Dino Audino di Mauro Longo. In questo libro, che non è molto grosso, Mauro Longo si sofferma a spiegare quali sono le caratteristiche principali che deve avere un gioco di ruolo nel momento in cui viene sviluppato, quindi spiega innanzitutto che cos'è un gioco di ruolo. Poi appunto si sofferma sull'ideazione, la progettazione e la realizzazione di un gioco di ruolo, mettendo in luce vari aspetti. Quindi si dedica una decina di pagine alla preparazione dell'ambientazione e poi alla stesura, scena per scena, momento per momento, di tutta la trama che poi verrà seguita all'interno dell'avventura giocata, non nel gioco di ruolo. Poi alla fine c'è un capitolo dedicato alla cassetta degli attrezzi dell'autore di giochi, in cui ci sono trucchi del mestiere, ci sono alcuni trucchetti, diciamo così, per riuscire a dare profondità a ciò che si va a creare. Ci sono anche due appendici, la prima dedicata ai giochi di ruolo dal vivo, oltre il semplice divertimento. La seconda dedicata ai giochi di ruolo a scuola, con la scuola e per la scuola. Questo tra l'altro è un argomento che a me anche interessa essendo insegnante e pensando sempre più spesso di poterlo applicare per esempio anche ai bambini della scuola dell'infanzia, perché sono sicuro che ci sia un modo per far vivere anche alla scuola dell'infanzia le storie che vengono raccontate in un modo più originale, quelli che vengono chiamati normalmente giochi di drammatizzazione. Sono sostanzialmente dei giochi di ruolo, quindi giochi di ruolo di Mauro Longo. Poi il secondo volume è sempre di Mauro Longo, però scritto in collaborazione con Mala Spina e con alcuni contenuti speciali di Matteo Poropat. Scrivi la tua avventura, dalle storie a bivi ai libro game. Guardate, questo è un testo molto importante perché effettivamente innanzitutto è corposo, è molto ben scritto, di una grande chiarezza che è un aspetto che di solito manca ai manuali italiani, così come è di grande chiarezza anche quello dedicato ai giochi di ruolo. Dopo una breve introduzione storica dalle storie a bivi ai libro game, in cui vengono analizzate le varie tipologie di libri interattivi, c'è un'introduzione alla narrativa interattiva, poi tutta una seconda parte dedicata all'ideazione, alla progettazione, al regolamento, agli elementi di design e di narrazione del libro game e poi c'è anche un capitolo dedicato ai più comuni errori da evitare nei libri gioco. La terza parte è dedicata alla scrittura e quindi gli strumenti dello scrittore, la stesura del libro game, i paragrafi del libro gioco e poi altre considerazioni di vario tipo e c'è anche una parte quarta dedicata alla pubblicazione che ritengo molto importante perché se c'è un aspetto che ho trovato molto interessante in questo libro è che fin dall'inizio in realtà Mauro Longo e chi ha collaborato con lui per la stesura di questo libro si sofferma proprio sull'approccio più sensato, più realistico ma anche più concreto e pratico per la stesura appunto di un libro gioco e quindi non parte come potremmo pensare dalla scrittura vera e propria, dall'ideazione vera e propria del libro gioco, scusate la voce ma questo tempo ve la abbassa ma parte proprio dall'interrogativo ultimo innanzitutto a chi è destinato il libro ma soprattutto come lo si vuole pubblicare e quindi una volta che, perché queste domande poste all'inizio? Perché in realtà l'approccio che si vuole utilizzare con il libro game, cioè la destinazione d'uso influenza profondamente la tipologia di libro gioco e quindi influenza molto anche il modo in cui deve essere scritto, quindi innanzitutto bisogna avere chiari che tipo di pubblicazione si vuole fare e poi quali sono i destinatari e dunque poi si può passare alla tipologia di libro e ai contenuti, quindi alla tipologia di narrazione che si vuole utilizzare e alla tipologia anche di gioco che si vuole offrire al destinatario del libro. Insomma un libro molto importante che sto utilizzando in maniera, cioè sto utilizzando, che lo sto leggendo ma addirittura già mentre sviluppo il mio libro gioco. Io già in passato avevo tentato di scrivere un libro gioco che però era più, stando alle definizioni che ci sono qui, un libro a bivi, sempre appunto ambientato all'epoca di Innesan il potente. Adesso lo sto proprio riformulando completamente per offrire un'esperienza che sia a metà strada tra il libro gioco vero e proprio e il gioco di ruolo. Ma poi proporrò anche una serie di video in cui porto avanti lo sviluppo di questa iniziativa perché mi piacerebbe insomma coinvolgervi in qualche modo e tenervi aggiornati passo passo verso il prossimo anno e ciò che succederà nel prossimo anno che sarà qualcosa secondo me molto interessante. Ora giustamente dice Mauro Longo non si può scrivere un libro gioco se prima non si ha esperienza di un libro gioco così come non si può creare un gioco di ruolo se non si è giocato ai giochi di ruolo e non si può d'altronde scrivere un romanzo se non si sono letti molti romanzi va da sé. Adesso al di là dei libri gioco che avevo dei librogame che avevo giocato in passato che erano per lo più i libri di lupo solitario che erano tra i più famosi me ne sono presi alcuni che adesso vi mostro proprio per capire i differenti sistemi di gioco. Allora ho preso l'antro della paura di Joe Diver appunto della serie di lupo solitario e la serie che è stata rieditata praticamente questa con la copertina di Alberto dal lago. Ecco un libro questo l'ho già giocato tre o quattro volte riuscendo infine ad arrivare al termine vivo ma per miracolo e molto divertente magari poi ne parlerò in maniera più approfondita l'antro della paura. Poi ho preso il cuore di fuoco di Michael J. Ward della serie Destiny Quest che è un librone anche con delle mappe perché qui ad un certo punto si potrà scegliere dove andare ma lo scoprirò soltanto vivendolo perché ancora questo devo cominciarlo se lupo solitario erano circa 400 paragrafi questo sono 900 paragrafi un bel librone insomma un bel librone giunti giochi uniti allora scusate l'antro della paura di Joe Diver era della Vincent books e costa io l'ho pagato 16 euro 90 questo invece destini il cuore di fuoco giochi uniti della giochi uniti costa 27 euro sto facendo un po' di casino oggi poi ho preso questo librettino for against darkness edizione italiana il cuore della lucertola un romanzo breve di davide mana quindi autore italiano molto apprezzato tra l'altro con appendice di gioco per personaggi di qualsiasi livello un gioco old school un gioco old school vuol dire quindi che è un gioco che rientra più nei libro game di vecchia generazione più che altro insomma quindi credo una una storia a vivi con alcuni inserimenti che vanno verso il libro game o comunque un libro game di semplice di semplice regolamento insomma comunque non lo so sto parlando un po' a vanvera su questo libro perché in realtà ancora non l'ho giocato e non l'ho letto comunque costato 15 euro e 90 ma d'altronde è un'edizione con illustrazioni ma anche con diciamo carta carta spessa e lucida e patinata illustrazioni interne in terza e in quarta di copertina e in seconda di copertina bene un gioco old school di andreas filigoi benissimo e poi ho preso di hp docraft il colore venuto dallo spazio di edward ricker chus cthulhu secondo libro raven distribution sempre vincent books eccolo qua questo guardate c'è ancora la plastichina lo devo ancora aprire 12 euro 90 mi leggo la quarta di copertina scegli la tua follia come esperto di idrogeologia sei stato incaricato di ispezionare le boscose selvagge valli di arkham per stabilire se possano ospitare un invaso che fornisca d'acqua le località costiere ma una scia nel cielo e una catena di esplosioni sconquassano la regione un meteorite caduto nei pressi della fattoria dei gardner e l'inizio di un incubo una misteriosa luminescenza contamina la valle portando il morbo di una corruzione alla quale anche tu potresti soccombere e quindi appunto e si rifà al famoso racconto no intitolato per l'appunto colore venuto dallo spazio quindi scopriremo anche come è stata adattata questa storia ad un libro game però per scrivere un libro game comunque bisogna essere buoni scrittori cioè bisogna conoscere un po tutti gli anfratti della scrittura in modo particolare un libro game ambientato ovviamente in un mondo fantasy deve avvalersi di una scrittura fantasy adeguata quindi bisogna avere anche un po di esperienza insomma nell'ambito della scrittura fantasy cosa che fortunatamente o ciò nonostante ho pensato comunque che anche per la scrittura del settimo anzi per la scrittura del settimo volume di storia di game show others così come anche per la stesura e la programmazione e per affrontare alcuni passaggi dei nuovi romanzi fantasy che scriverò diciamo che programmerò il prossimo anno della serie radici di sangue ambientati 500 anni prima di storia di geshua others ho pensato di avvalermi di strumenti ulteriori uno è questo per esempio il viaggio dell'eroe di christopher vogler la struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema sempre di dino audino editore è un libro che affronta praticamente l'archetipo del viaggio dell'eroe di jungiana memoria però declinato sotto l'aspetto narrativo quindi il modo in cui può essere utilizzato sotto l'aspetto narrativo infatti vi leggo cosa dice della breve biografia di christopher vogler per farvi capire come sia in realtà un personaggio molto importante non soltanto per la narrativa in sé ha esaminato come storia analyst più di 6.000 sceneggiature per le più importanti major statunitensi dalla warner bros alla 20th century fox è stato consulente della walt disney per i film la bella e la bestia la sirenetta è capo del settore sviluppo della fox 2000 ha insegnato all'università ucla di los angeles tra l'altro credo anche di averlo già letto forse questo libro perché adesso mi viene in mente o forse ne ho letto un altro che ha pubblicato ma lo scopriremo comunque comunque analizza in maniera molto approfondita il viaggio e come va tracciato vi vi faccio un esempio leggendovi i titoli dei capitoli la prima parte si dedica a tracciare il viaggio dell'eroe i capitoli si intitolano una guida pratica gli archetipi l'eroe il mentore il guardiano della soglia il messaggero lo shape shifter l'ombra l'alleato il trickster oltre gli archetipi cioè capite analizza proprio il modo in cui può essere approfondito l'eroe il suo viaggio e ciò che incontrerà durante il viaggio la parte seconda è dedicata alle fasi del viaggio i capitoli sono intitolati il mondo ordinario la chiamata all'avventura il rifiuto della chiamata l'incontro con il mentore il superamento della prima soglia prove alleati e nemici l'avvicinamento alla caverna più profonda la prova centrale la ricompensa la via del ritorno la risurrezione il ritorno con l'elisir quindi capite già da questi titoli come in realtà sia un libro più che adatto per sviluppare una storia non soltanto per un romanzo ovviamente ma anche eventualmente per un libro game no perché in realtà tutti i capitoli che lui mette in evidenza affrontano proprio quelli che possono essere gli snodi cruciali anche all'interno di un libro game però per l'appunto vi dicevo sono supporti non soltanto libreschi che ho preso per affrontare la scrittura di questi nuovi romanzi fantasy allora per aiutarmi per aiutare la fantasia sapete la fantasia ha sempre bisogno di nuovi stimoli e scrivere un romanzo deve essere una cosa divertente perché se tu ti diverti mentre scrivi il tuo romanzo in realtà divertirai anche il lettore per questo motivo ho pensato di divertirmi come facevo un tempo quando giocavo ai giochi di ruolo e quindi innanzitutto ho rispolverato un paio di manuali che avevo di dnd quindi avevo il manuale famoso manuale del giocatore manuale base questo l'ho comprato successivamente a quando iniziai a giocare a dnd io ho smesso di ci sono anche delle schede guardate un po che che usavo queste però le usavo nel 2007 che è stato l'ultimo anno in cui ho giocato a dnd però ho iniziato a giocare nel 87 se non vado ad 87 88 quindi insomma sono proprio della prima generazione di giocatori con la prima versione di dnd italiana insomma in questo libro ovviamente ci sono spiegate no varie caratteristiche dei vari tipi di protagonisti di personaggi che possono sempre offrire degli spunti per rendere un po più credibili no i comportamenti per esempio dei personaggi della tua storia e non bisogna disdegnare questi mezzi perché in realtà ti offrono proprio diciamo che a volte magari su certi aspetti fanno il lavoro per te perché perché uno scrittore deve sempre ovviamente informarsi formarsi per un conto e formarsi andando alla ricerca in maniera autonoma di notizie di informazioni prese di quali di dai poi mettendole insieme aggregandole questi libri in realtà sono già degli aggregati di notizie di nozioni di informazioni che vanno sempre vagliate con senso critico però possono tornare utili poi per esempio c'avevo anche il manuale del nano non so se effettivamente me ne farò qualcosa però anche qua visto che allora in storia di gasholders nel mondo di stedon che il mondo in cui a metà passare di gasholders non ci sono i nani però ci sono gli ignomi che sono differenti rispetto ai nani ma hanno alcune caratteristiche in comune e allora chissà mai potrebbe anche tornare utile qualcosa anche se ormai molto ben delineato il mondo diciamo la razza dei degli ignomi ecco poi di recente spendendo una bella cifra ho comprato il manuale dei mostri di dnd anche qui allora ci sono mostri specifici vabbè ma questo lo conoscete tutti perché se come se avete mai giocato a dnd o comunque se gli interessa il fantasy insomma conoscete molto bene no che tipologia di mostri ci sono in dnd ora in una storia di gasholders o comunque nel mondo di stedon ci sono tutta una serie di creature che sono creature mitiche quindi della mitologia classica perché mi rifaccio come sapete a leggende tipiche dell'italia o comunque del mediterraneo in maniera specifica e dunque sono creature mitiche delle leggende classiche incentrate su mediterraneo ma anche sulla mesopotamia e poi ci sono anche creature magiche ovviamente creature magiche sono in parte ispirate alle leggende tipiche dell'italia quindi creature che non si trovano nella mitologia classica ma in parte sono anche creature che ho inventato io attraverso l'utilizzo della magia nel mondo di stedon però non si sa mai che anche da un manuale di questo tipo che è costato 50 euro 50 euro possa venire qualche suggerimento utile poi c'è un aspetto adesso che trascende i libri e ha a che fare proprio con la gestione per esempio degli scontri e dei combattimenti e mi sono detto allora io ho sviluppato il mio modo per risolvere i combattimenti all'interno del libro game libro game che tra l'altro sarà in titola diciamo che sarà il primo di una serie forse saranno tre libro tre libro game in tutto e saranno intitolati diciamo la serie intera sarà intitolata mostri nelle terre d'oriente però lo scenario sarà gesta di innesan il potente comunque mostri nelle terre d'oriente saranno credo tre albi appunto sto scrivendo il primo quindi per gestire gli scontri ovviamente le battaglie io ho sviluppato un mio sistema però non possono non tornarmi utili strumenti tipo un tabellone diciamolo per fare la pavimentazione per l'ambientazione per immaginarmi l'ambientazione da sul quale muovere ovviamente i personaggi quindi ho preso un po di come si chiamano action figure di dark heaven legends qua c'è un minotauro che ovviamente non userò il minotauro però faccio finta che sia un mostro di un qualche tipo poi qua ci sono i ripper bones black people of the townlands non so esattamente di che serie facciano parte comunque fanno al mio comodo perché questi potrebbero essere per esempio i tre protagonisti o comunque i protagonisti del libro game o della o del romanzo fantasy poi qua c'è un altro mostriciattolo sempre della stessa serie di questo e poi ho preso il lannister gutsman the song of ice and fire qua dentro ci sono 1 5 9 12 13 soldatini sostanzialmente 13 personaggi che posso utilizzare come insomma nei modi più vari insomma anche la fantasia ha bisogno di essere nutrita attraverso il divertimento se mi diverto io si divertirà il lettore questo è ciò che cerco di fare quindi spero che questi suggerimenti anche se mi rendo conto un po mescolati e confusi possano e tornarvi utili per darvi un'idea di come si può lavorare ad un libro game o comunque più in generale allo sviluppo di una storia fantasy e anche la scrittura di una storia fantasy in futuro dedicherò una serie di video proprio alla stesura e alla elaborazione di questo libro game perché il mio obiettivo ve lo dico subito è sarà quello di partecipare a una delle convention o una delle fiere che ci sono in italia dedicata ai libro game io avrei in mente modena play di fine maggio oppure anche luca comics and games vediamo insomma cosa riuscirò a fare comunque ve lo racconterò poi in un prossimo video e d'altro canto appunto poi ci sarà la stesura di del settimo lume di storie di geshawlers ma soprattutto la programmazione dei tre volumi che comporranno radici di sangue i tre volumi romanzi fantasy ambientati 500 anni prima di storie di geshawlers con questo è tutto se volete comprare ciò che io di cui vi ho parlato potete seguire i link che vi metto in caccia a questo video e vi saluto ciao alla prossima